Una notizia che mi auguro che gli interessati siano già al corrente, ma probabilmente tanti non lo sono ancora. Parliamo ancora una volta dei famosi bond argentini. Perché? Perché il governo argentino, visto che la situazione sta andando abbastanza bene in Argentina, ha riaperto la famosa offerta al cosiddetto concambio, quello che era già avvenuto qualche anno fa, adesso nuovamente l'Argentina mette sul mercato altri soldi e riapre l'offerta di qualche anno fa, più o meno alle stesse condizioni. Non sono tanti soldi come l'altra volta, ma adesso. Io so che ci sono ancora tantissime persone che da anni e anni hanno lì migliaia e migliaia di euro morti. In cosa sperano? Non lo so. Le strade quali erano? Denunciare la banca che ce li aveva venduti, ma soltanto in quei casi dove effettivamente la banca aveva compiuto un imbroglio, c'era una volontà di truffarci. E io penso che ormai quasi tutte le persone che si trovavano in questa situazione, la propria banca, l'hanno denunciata. Io so che l'avvocato dell'Associazione Difesa Consumatori ha seguito decine di risparmiatori, così come altri legali, e 90 e più per cento hanno riavuto i loro soldi. Esclusa questa strada della denuncia alla banca per tentata truffa e poi si risolve in via stragiudiziale, cioè si incontrano gli avvocati, si prendono i soldi e chiusa lì senza andare in tribunale. Le altre strade erano una fantomatica strada giudiziaria ai tribunali di New York, che è finita nel nulla, nel ridere. Io mi ricordo che quando la criticavo ci furono tanti che insorsero dicendo che io straparlavo, non sapevo le cose, ma le sapevo benissimo e dicevo lasciate perdere, vi succhiano altri soldi e basta, perché poi ci sono gli avvoltoi sulla gente che è derubata, dato che qualcuno dice quello è stato così imprudente, ci crede a queste storie e quindi lo frego io, perché devono fregarle gli americani, comincio a fregarlo io, anche alcuni legali del nostro territorio hanno succhiato soldi a questa gente in cambio di niente. Poi cosa c'era? C'era questo famoso ricorso a questo organismo internazionale che io vi dissi non ho alcuna speranza, anche perché alla fine gira e rigira, anche se questo organismo condanna l'Argentina, visto che questo Stato non ha nessuna intenzione, ma non ha neanche i mezzi poi per pagare realmente tutto quello che gli si chiede di pagare, cosa fa? Dice bene, se mi avete condannato me ne frego, perché questo organismo non ha un esercito, non ha l'aviazione che allora vengo a bombardare Buenos Aires o la flotta vengo a bombardare dal mare. No, ti conquisto la terra del fuoco, no. Quindi anche se un domani questo ricorso, ma parliamo ancora di due anni perché si concluda, qualora, ma dico e sottolineo qualora, dovesse concludersi positivamente, in concreto questo organismo, al di là di avere detto abbiamo ragione, i nostri spermiattoni hanno ragione, poi l'Argentina dice e vabbè, e allora prendiamo atto e ce ne freghiamo, ecco, cioè c'è poco da fare. Quindi amici che avete ancora lì a marciere questi titoli, che non vi hanno più dato un centesimo da anni, valutate, valutate, meditate gente, valutate gente, c'è un'ultima occasione, passa per l'ultima volta un treno, c'è la possibilità di fare un concambio, par 10.000, 10.000, fino a un massimo di 40.000 euro, sempre che si riesca, perché non sono centinaia di miliardi, sono due miliardi di dollari, terminati i quali chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Io vi consiglierei chi ancora avesse in tasca dei titoli vecchi dell'Argentina, i famosi bond, non si lasci sfuggire a questa occasione, tanto bene cominciare, becca subito gli interessi entro un paio di mesi, gli interessi dal 2003 a oggi e non sono pochi, si va da un minimo letto di 800 a 3.200 euro, vedete un po', io mi rivolgo a gente che hanno questi titoli, che hanno bisogno di soldi, poi lo so, nel nostro territorio c'è tantissima gente che è piena di soldi, che non gliene frega niente, che ne fa una questione di principio, ho lì 100.000 euro di bond argentini, ne voglio 100.000 euro vivi, non me li dà, e vabbè li tengo lì, intanto che me frega me 100.000 più 100 in me, è un discorso diffusissimo, sapete che nel nostro territorio gente che i 100.000 euro sono come per la maggioranza di noi sputtare per terra, ce n'è quanti se ne vuole, quindi chi è pieno di soldi, lasci perdere, tanto non ne ha bisogno, chi si trova e non ha seguito il mio consiglio, che era di cambiare allora e vuole cambiare adesso, che faccia l'operazione, poi ognuno faccia ciò che vuole, questo è il mio consiglio, vale qualcosa, forse niente, però valutate, è una voce di chi, di riff o di raffa, da parecchi, ma tanti anni ormai, in queste situazioni ci vive e qualche idea se le fa.